Sindaco e residenti hanno chiesto un incontro con lei per poter cercare di capire la problematica e confrontarsi, è possibile? Sì, è già in programma, adesso fra l'altro l'assessore è diventata anche mamma, quindi ho piacere che sia presente anche lei, per cui adesso risponderemo anche alla loro richiesta, però garantisco che ci sarà questo incontro perché poi è importante, serve anche a noi per affrontare una serie di problematiche che poi si possono creare per dare anche delle risposte, raccogliere anche dei suggerimenti dai residenti stessi, perché abbiamo a cuore la bellezza della città, quindi il miglioramento, la riqualificazione della città e nello stesso tempo la vivibilità di chi ci abita.